Ormai un appuntamento fisso di fine estate a Pescara, William Zola, parliamo dell'undicesima edizione della Torre del Bardo e di questa manifestazione che vuole onorare e ricordare ovviamente William Shakespeare. Sì, hai detto benissimo, è l'undicesima edizione della Torre del Bardo nella splendido scenario di Villa Sabucchi. Quest'anno abbiamo scelto proprio un omaggio, due serate, 28 e 29 agosto, dedicata al genio drammaturgico di William Shakespeare con tutta una serie di sketch, scene che a me è delle sue opere principali, con una brevissima introduzione che riguarderà appunto alcuni aspetti della personalità e della drammaturgia di Shakespeare, la sua contemporaneità, i personaggi femminili di Shakespeare e Shakespeare attraverso la pittura con il professor Giovanni Benedicenti. Quindi un appuntamento interessantissimo con un cast molto particolare perché è un mix fra esperienza e giovinezza nel senso di debuttanti e abbiamo scelto questa formula perché mi sembra che ripercorrendo un po' quella la peculiarità d'età di Elisabettiano erano queste un po' le sue maggiori componenti. Quindi lo scenario si presterà naturalmente a creare questo clima bellissimo, onirico che darà affascinazione a questa pièce e aspettiamo insomma il nostro pubblico che è consolidato e faremo anche ovviamente un pensiero rivolto anche al dramma che stiamo vivendo in questo momento in Italia per quanto riguarda questa maledittissima storia del terremoto, ma la drammaturgia di Shakespeare che si sottolinea appunto con la fragilità dell'essere umano su questa terra si presta a qualche riflessione importante.